Non sono molto ben vista. Si stupisce? Non amano quelli che hanno privilegi speciali. Lei che vuole? Qualcosa vuole o se no se ne sarebbe andato con gli altri? Ha indovinato. Almeno è sincero. Lei è la sola persona che abbia contatti con l'esterno. Capisco. Dovrei farle da ufficio informazioni. Abbiamo diritto di sapere quello che ci attende. Lo chiede a me. Perché non ha Zorek? L'ho fatto. E ne ho buscate. Lei sarebbe il dottor Miner. Infatti. Daniele Miner. Cosa le hanno detto di me? Che è un buon chirurgo. Che sai il fatto suo. Zorek dice che è stanco. È vero? Che è un uomo amareggiato e deluso. È più furbo di quanto credessi. Che la vita per lei non ha più attrattive. Infatti. Ma se la pensa così, perché vuol sapere da me cosa verrà di voi? Voglio saperlo per gli altri. Cosa hanno in serbo per loro le autorità? Le conosce abbastanza per poterlo immaginare. Scompariranno. Perché non subisce anche lei la nostra sorte? Ha qualche grosso santo in paradiso? Perché mai dovrei subire la sorte di gente tanto sciocca da farsi prendere in trappola. Avevano tutto il tempo per partire. Ho sempre vissuto in quest'albergo. È molto comodo. E mi ci trovo bene. Poi non sono suddita di una nazione nemica. Sono nata a Tangeri. Io sono cosmopolita. E apolitica. Apolitica? Esatto. Non lavoro per nessuno. Penso soltanto a me. Penso soltanto a me.